Bentornati sul canale di TheBatman, il cavaliere oscuro di YouTube, per questo video speciale Horror Night, l'iniziazione. Ginny, il piccolo, l'aveva detto, c'è qualcosa in quel cimitero che non appartiene a questo mondo, ma nessuno ha mai voluto credergli. La gente di Spring Green, Wisconsin, ha preferito ignorare il ragazzo storchio senza dimora che sciondolava per le strade della città. Anche Chuck e i suoi amici l'avevano fatto ridendo spesso delle cose strampalate, che diceva, ma Ginny era una bella parentesi nella monotonia della loro vita e a loro piaceva. Adesso Ginny non c'è più e nessuno sa che fine abbia fatto. Molti fanno finta di non sapere, tanto quel ragazzo mai cresciuto era solo un vagabondo che chiedeva un mezzo dollaro, mangiava la canonica e pisciava sui muri di recinzione. Si metteva anche spesso nei guai e magari l'ultima volta gli era stata fatale. Sì, doveva essere andata così, diceva qualcuno. Forse è sparito proprio qui, in questo cimitero, si disse Chuck, mentre osservava la luce del giorno allontanarsi inesorabile all'orizzonte e il buio della notte farsi sempre più imminente. Quando il vecchio Bronco li aveva avvertiti, qualche sera prima avevano riso delle sue paure. Jeffrey Randall e Nathan Wells erano troppo furbi per farsi spaventare da un vecchio rincoglionito. Bronco era un nero che abitava in una catapette alle porte della città, un uomone quasi senza denti e con la barba incolta e arruffata. Aveva sempre indosso una logora salopetta di jeans e un cappellaccio di paglia, sfilacciato, e passava il tempo a chiacchierare da solo vagando nella campagna attorno e gesticolando come se ci fosse lui, come se ci fosse davvero qualcuno con lui, qualcuno che solo Bronco poteva vedere. Parlo con i morti, diceva sempre ai ragazzini che gli domandavano con chi ce l'avesse, o a quelli meno scaltri che si limitavano a guardarlo con un misto di curiosità e timore. Una volta ciacchia aveva chiesto a sua madre se Bronco parlasse davvero con i morti, e lei gli aveva risposto che era solo un anziano con qualche rotella fuori posto, ma ciacchia non le aveva creduto, non del tutto almeno. Non andate al cimitero, state lontani dalla terra dei morti, di Redargui Bronco quella sera di alcuni giorni prima, quando tre ragazzi erano passati davanti a casa sua, e Jeffrey si era pavoneggiato raccontando delle sue scorribande tra le lapidi mute e gli antichi cenotafi. Lui e Nat scoppiarono a ridere all'avvertimento di quel vecchio che si ragionava canzonandolo, ma Chuck non rise. Chuck Morgan quella sera aveva avuto paura. proprio come adesso, avete paura anche voi. No, adesso lui era terrorizzato, ma di fronte ai due amici aveva dovuto mostrarsi coraggioso. C'erano in ballo la sua dignità, l'entrata definitiva nel gruppo e un'uscita con Kismet Jones. Era stata quell'ultima prospettiva a convincerlo a starsene per l'intera notte nel cimitero di Spring Green. Kismet aveva solo due anni più di lui, ma aveva già accolto nelle sue umide profondità l'innocenza di molti ragazzini della scuola. Uscire con la ragazza era considerato una sorta di battesimo del sesso, l'esperienza che ti faceva entrare di diritto nel mondo degli adulti, sebbene tutti sapessero che li aspettavano ancora parecchi anni di scuola prima di potersi freggiare di quel titolo. Chuck avvertì qualcosa a muoversi all'interno dei pantaloni e cercò di sviare i tuoi insieditoricolosi che gli stavano fiorendo nella testa. Non ora, pensò, adesso devo essere vigile, devo controllare che non arrivi nessuno. Tu hai paura, lo canzano Jeffrey. Ehi, Nat, Chuck ha paura, mi sa. Non ho paura, replicò Chuck risoluto, ma il sonno della sua voce gli parve poco convincenti. E allora passa la notte al cimitero. Ma perché proprio questa notte, la notte di Halloween? Io sto là e voi ve la spassate a casa di Bobby. I due risero. E' toccato anche a noi che ti credi, disse Nathan. E poi a mezzanotte, all'ora delle streghe, veniamo a dare un'occhiata. Non potrai svignartela, lo avverti Jeffrey. C'è solo un passaggio per entrare al cimitero dopo che chiude. E quando entrerai, noi lo chiuderemo. Ti veniamo a prendere alle tre, quando la festa è finita. E sai già che ti succederà se vuoi andartene prima, aggiunse Nat. Diventerai Chuck la femminuccia. Ti ricordi che è successo a Gavin Houston, Hudson? Anche lui ha avuto paura ed è diventato Gavin la femminuccia. Tu l'hai visto penso dalle dall'albero, Chuck? No, rispose il ragazzino. E qui per il momento finisce ragazzi questo primo capitolo di questo video speciale Horror Night. A presto per un nuovo speciale Horror Night.